Ecco, questo è il filmato che Brando Currarini ha realizzato perché ha fatto tutto, ha fatto tutto da solo. Però quello che è importante è sentire le emozioni, le sensazioni che ha riportato dopo questo viaggio e anche il fatto di averlo rivisto, rimontato e rivissuto. Allora Brando, intanto l'inizio, quando sei arrivato, il primo impatto com'è stato? Beh, totalmente differente da quello che mi aspettavo, lo mostro anche nel film. Beh, questo corto è stato girato a caldo, però appena tornato praticamente me l'ho già contattato con la professoressa e gli era venuta questa idea di mettere in relazione il terremoto in Abruzzo e la mia visita ai campi. Avevamo idee abbastanza diverse e qui in effetti si vede un pochino che collidono. Comunque appena arrivato sono rimasto un po' stupito, soprattutto per questo fatto che avevano cancellato tutto e ricostruito, rifatto quasi come se fosse stata un gioco. Un gioco, sì, ma più che altro proprio questo fatto che è stato tutto quanto distrutto, demolito e sembra quasi che la gente voglia completamente dimenticare cosa è successo. Ci raccontavano gli extreportati dell'ANED che le prime volte che si andava lì, quando non c'era ancora niente di organizzato, quando si chiedeva alla popolazione locale indicazioni, stradali, loro dicevano non so niente, non so dove sia questo posto. Una cosa che mi ha proprio sconvolto totalmente era il parco giochi accanto al cimitero e i bambini che mentre giocavano ci guardavano allibiti insieme agli anziani. Chi si è? Sì, perché si è arrivati praticamente in questa specie di piccolo villaggio di montagna. Abbiamo parcheggiato in un luogo adibito a campo di calcio nel periodo estivo e ci hanno visti sfilare per le piccole strade di questo villaggetto. Tu ti sei reso conto che stavi entrando nella fabbrica più grande della morte che l'uomo abbia mai fabbricato? Perché è questo il posto. Sì, Mauthausen e tutti quanti i sottocampi, ovviamente abbiamo avuto innanzitutto i ex deportati stessi, un piccolo background storico. Una cosa che mi ha un secondo anche, diciamo, stupefatto, è il fatto che non è come tutti quanti pensano che gli unici che sono deportati nei campi siano stati gli ebrei. Ovviamente no, infatti la maggior parte, anzi, penso quasi tutti quanti i deportati dell'Aned erano partigiani deportati da Bolzano e poi divisi nei diversi sottocampi. Ci raccontavano la vita di ogni giorno che era molto dura ed è stato un miracolo che sono sopravvissuti, molti di loro non ce l'hanno fatta. Dimmi un po', consigli a tutti, anche ai ragazzi della tua età naturalmente, che è proprio conoscendo che si può capire, solo vivendo quelle emozioni in parte così talmente piccole, ma che danno questo senso della tragedia. È giusto andare là? Beh sì, ma soprattutto è giusto andare là nel momento giusto, cioè non si può andare là quando si ha 16 anni, 17 anni. Credo che l'età ideale sia appunto dai 18 anni in su, perché prima, a parte tutto, non si riesce bene a capire il luogo. Anche per avere una conoscenza di corredo? Anche quello la conoscenza di corredo, ma principalmente c'è bisogno di essere abbastanza maturi per riuscire a capire queste cose e, soprattutto molto importante, si deve andare là non con le guide e altro, ma, a mio consiglio, proprio con l'associazione ANA di ex deportati, che loro spiegano veramente in modo efficace quello che hanno provato là. Ne hai parlato con i tuoi amici? Più sì e no, cioè non sono molto interessati, nel senso... E' questo, è questo, forse si rimane un po' interdetti a volte quando si vede questa scarsa conoscenza, perché lì forse una colpa, tra virgolette, ce l'ha anche la famiglia. Vuol dire che se ne ha parlato sempre poco di queste cose? Ma non proprio, cioè nel senso, semplicemente, magari conoscono gli eventi, però semplicemente non vedono il motivo di parlarne con gli amici, perché di solito con gli amici si diverte, ci si scherza, non si fa... Quindi è importante che la scuola però lo faccia? E' molto importante, è molto importante. E' una funzione? E' una funzione che la scuola ha. Cioè, se la scuola non ci istruisce, non solo tramite i concetti e le conoscenze, ma anche non ci fa crescere umanamente, non serve molto la scuola. Infatti sono molto contento di andare a questa scuola, perché oltre che ricevere una conoscenza di alto livello, studiando alcune materie, ad esempio filosofia o anche storia, appunto, sono cresciuto molto a livello umano in questi anni. Tornerai? Non subito. Sì, ma è un pochino più avanti. Ecco, gli diamo un attimo di respiro, di riflessione. Questo ragazzo molto maturo, avete sentito. Queste sono le impressioni che si hanno quando si va in questi campi di dolore, dove là c'è stata proprio la trasformazione da parte dell'uomo e l'essenza del male assoluto. Ecco, là si trova questo. E credo che l'antidoto all'orrore sia la conoscenza. Quindi noi ringraziamo Brando Currarini per questa sua testimonianza, da parte appunto di un giovane, delle nuove leve, il futuro, che abbiano questa coscienza di capire, di riflettere ed evidentemente meditare davvero per quello che è stato, ma attenzione, che potrebbe sempre e comunque succedere. Da Enrico Colombo, grazie e il prossimo appuntamento. A tutti buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.